Si è tenuta ad Assisi l'ultima conferenza associativa di Avis Umbria, un incontro atteso con tanti temi da affrontare che ha coinvolto presidenti, amministratori, segretari e tesorieri delle tante Avis del territorio regionale. È un importante momento di confronto perché facciamo un pochino il punto sull'andamento delle attività associative del 2023 e anche in proiezione per i programmi del 2024. È un momento associativo che tutti gli anni teniamo proprio per condividere insieme a tutti i presidenti, gli amministratori, i segretari e i tesorieri delle Avis gli obiettivi, le analisi e le strategie per poter migliorare e assicurare sempre a tutti i cittadini umbri il sangue necessario. Stiamo cercando di disegnare quello che è il futuro dell'associazione da un punto di vista della rappresentatività sui temi che ci sono, sono anche dei regolamenti interni che speriamo che possano garantire una rappresentatività piena e un pieno coinvolgimento di tutte e quante le parti della provincia. Quando si parla di donazione di sangue la sensazione generale è che di strada da fare ce ne sia sempre tanta. In provincia di Terni ad esempio negli ultimi mesi si è registrato un evidente calo di apporto di sangue dovuto non tanto alla mancanza di donatori bensì alla scarsa frequenza da parte dei donatori stessi. Prima per varie ragioni anche legate al mondo del lavoro si poteva donare anche 3-4 volte all'anno. Adesso questo non avviene più e allora aumentare i donatori è fondamentale. Quindi stiamo cercando di sensibilizzare tutti per fare una semplice donazione all'anno però che possa essere utile a supportare il nostro servizio sanitario. Per quella che è la situazione attuale a Vissumbria invita i cittadini in buona salute a entrare a far parte della grande famiglia dei donatori. Intanto ci si aspica l'avvio della piano sangue plasma regionale legge destinata a garantire il buon funzionamento di tutti i servizi trasfusionali.